un saluto a plasma e bentornato in questi microfoni ciao ciao come va tutto bene tutto bene tutto bene diciamo che per le nostre chiacchierate ormai sono chiacchierate quasi in famiglia totalmente in famiglia mi ha visto al mio primo concerto sedio vediamo in questa maniera mi vedi anche ora perciò come stare in famiglia no ma anche perché quello che mi piace sempre sottolineare proprio l'evoluzione un'evoluzione artistica e musicale ma quello che non cambia è proprio l'entusiasmo e la capacità di avere attorno delle persone sempre eccezionali sempre delle persone che credono in te e che credono nella tua musica e credono soprattutto sanno chi sei sanno come sei guarda chi va con lo zoppi impara zoppicare chi va con l'atleta impara a correre io penso che il bene attira il bene il male attira il male io sto bene con me stesso e credo di far bene credo di dare il meglio anche se a volte si sbaglia perché siamo umani giustamente però è bello vedere che facendo cose belle attiri persone che vogliono fare cose belle questo è positivo ma senti prima di parlare del nuovo singolo vorrei fare un passo indietro e parlare del festival di sanremo invece sono passati due mesi disco d'oro oggi a mente fredda come valuti il lavoro che hai fatto sul sul palco e sul mio dopo guarda non mi piace mai dirlo sta che sono una persona che non mi piace dire queste cose però abbiamo fatto platino e da poco anzi qualche giudice della ieri me l'hanno detto e me l'hanno detto pensate una persona che l'ha visto da perché purtroppo non guardo mai il telefono una persona mi ha incontrato per strada e mi ha fatto saputo che hai fatto platino ha fatto guarda che non lo sapevo sinceramente l'entusiasmo non cambia perché le persone ci supportano automaticamente nel momento nel quale ci sta un festival che comunque riconosce questo nostro talento delle persone che ci supportano l'entusiasmo non può mai mancare soprattutto dopo due mesi ti posso dire che la fama è il doppio dell'anno scorso e il triplo di due mesi fa questo questo è positivo anche perché non era obiettivamente facile riuscire ad emergere in un festival di sanremo con tanti artisti e poi così diversi l'uno dall'altro beh sicuramente uno deve emergere per quello che è io penso in questa maniera io non sono mai stato in competizione con nessuno se non con me stesso in in qualsiasi sfida della vita d'altronde non si parla di problemi di vita perciò automaticamente la competizione non c'è sopravvivenza c'è la musica che deve vincere a prescindere di chi e di per come la cosa bella di quest'anno è che c'erano tante sfaccettature della musica automaticamente ogni persona aveva la possibilità di rispecchiarsi nell'artista preferito ed è stato bello vedere che tante persone hanno riconosciuto nella nostra musica un luogo in cui nascondersi e o meglio un luogo in cui chiudersi in un momento del genere perfetto assolutamente sì poi tra l'altro parla mi ha avuto modo anche di portarlo sul palco del concertone del primo maggio anche se hai dato già qualche poi indizio poi anche del nuovo singolo si diciamo che abbiamo voluto abbiamo voluto portare quel qualcosa in più soprattutto perché era arrivato un momento in cui io diciamo mi stavo non stufando però sono con gli altri dico sempre che ho bisogno di entusiasmarmi della vita di non essere mai banale di cercare di trovare sempre nuove cose proprio perché penso che la vita noi artisti soprattutto ma chiunque abbia la fortuna di fare quello che gli piace nella vita abbia il dovere di prendere la vita con entusiasmo a prescindere di quello che gli succede dentro le mura di casa perciò sopra quel palco abbiamo portato questi tatuaggi che poi riportavano al titolo della canzone che era indelebile con accompagnati dalla nostra musica perciò più forti che mai ed è stata una bella esperienza soprattutto in un momento del genere è stato bello salire dal palco finalmente poi direi perché il palco finalmente bravissima detto bene non vedo l'ora guarda io sto aspettando da due anni di fare il mio concerto perciò dirlo un po dirlo un po a me ma parlando proprio di indelebile comunque si vede quella che è un'ulteriore notà anche dal punto di vista proprio del dei suoni ma comunque si mantiene ormai con l'impronta che abbiamo avuto modo di conoscere ormai qualche qualche tempo fa tu come definisci il brano e per te cosa rappresenta allora sicuramente ti posso raccontare dire che una musica è una canzone che è partita in maniera facile e ciò non esclude il fatto che comunque ci sia tanto lavoro dietro diciamo è partita in maniera facile perché come tutte le nostre canzoni sono partite di getto però sicuramente questa canzone è andata abbiamo voluto mirare proprio su un argomento che è quello dei ricordi no in questo momento sto leggendo molti libri di storia no e delle volte mi ritrovo a leggere delle delle situazioni che sono accadute centinaia di anni fa analoghe a quelle che possono accadere oggi magari con usi e constitutini e culture differenti e questa cosa è mia mia sorpreso così tanto che ho detto che i ricordi alla fine anche se abbiamo la testimonianza molte volte neanche noi sappiamo com'erano le cose perché poi non ci andiamo ad informare questa canzone un po' quel libro di storia no quel libro che a prescindere di quello che può capitare nel futuro i ricordi ci devono forgiare perciò devono essere quel libro che devono insegnarci come la storia fa a non commettere gli stessi errori che qualcun altro ha commesso nel passato e perciò questa è un po la nostra fotografia il nostro nostro libro da da leggerci ogni tanto per ricordare chi siamo assolutamente a me piace anche molto il video clip perché secondo me non fa altro che amplificare quello che il messaggio del del brano secondo me più lo si guarda e più comunque si si percepisce quella che è questa tua questa tua volontà soprattutto di portare un tipo di messaggio ben preciso sì diciamo che la scelta degli artisti comunque gli artisti per fama per realtà sono una realtà che vive con gli stessi valori con cui noi viviamo la musica che sono i valori sicuramente della fratellanza del rispetto reciproco dello stare insieme e comunque questo questo mondo poi la cosa bella personalmente racconto questa piccola chicchetta personale che non tendo mai a raccontare la mia vita privata però l'ho voluto fare proprio per omaggiare una parte della mia educazione perché mio padre è un artista era un artista quando aveva le harley l'harley andava in giro a fare le sue avventure perciò è stato allo stesso tempo sia un omaggio a questa realtà ma allo stesso tempo anche un omaggio a un'esperienza personale che è sempre giusto portare perché l'immaginario come sempre ci forge ricordi ci forgia nel nostro passato deve essere un motivo in più per essere più forti no assolutamente qualche giorno fa hai scritto sui social un lungo messaggio in particolare vi ha colpito una frase se domani qualcosa non cambierà sarà anche colpa tua mia beh piuttosto forte però credo che comunque riesce molto bene quello che è il tuo punto di vista sul periodo ah guarda io penso che siamo in un periodo di ottimisti indefiniti eh tendiamo a credere nel futuro ma non sappiamo come eh lasciamo troppo a troppo troppo troppa responsabilità eh al caso eh cosa che io eh ho sempre guardato con tanto rispetto il caso il destino ma allo stesso tempo penso che ognuno si aiuti da solo perciò io quello che invito a fare alle persone di aver ben definito quello che vogliono nel futuro di lamentarsi poco soprattutto i giovani eh di essere ottimisti per il futuro ma con un piano in mente eh poi può essere rispettato o non rispettato a discrizione di ognuno però sicuramente un piano fa di noi una sicurezza in più per il per l'avvenire assolutamente ma poi mi è piaciuto anche un messaggio di qualche settimana fa quando eh dicevi la mia musica vale più della mia faccia perché qualcuno ha messo in dubbio tutto questo no però sicuramente ho sempre cercato di nascondere la mia faccia ma non peraltro non perché stessi male con me stesso eh non perché credo di essere così tanto bello che la mia musica passa in secondo piano ma bensì eh si cerca tende si tende molte volte avendo una figura fisica a dover rispondere a delle domande no? eh il perché anche il vestiario fa raccontatino tante cose perciò anche semplicemente il vestiario crea in noi eh giustamente delle domande verso il prossimo e quello che io voglio far passare in primo piano e che ho sempre voluto far passare in primo piano è la mia musica le mie parole eh è per quello che io non tendo a raccontare la mia vita privata io penso che una persona possa giudicare la mia musica e dire che è brutta io non mi sentirò mai offeso perché la musica è soggettiva eh nel momento nel quale si parla della mia vita privata nessuno può giudicarla se non io perché solamente io la vivo e solamente io so perché accade una determinata cosa è per questo che voglio sempre scindere le cose tutto qua a me piace come comunque stai gestendo questo questo periodo perché obiettivamente della tua vita privata non si sa nulla se non quello che ogni tanto racconti nelle nelle interviste non è così semplice soprattutto in una società dove comunque i social la fanno da da padrone io credo che comunque per fortuna si parla di basma per la musica che fa basma guarda il io ho sempre creduto che dicendo sempre la stessa parola perdesse il valore allo stesso tempo più le persone dicono qualcosa più la storia cambia più qualcuno mette il suo no e ciò non è sbagliato per un ideale ciò non è sbagliato per un'idea però quando si parla di fatti quando si parla del vissuto quando si parla di esperienze soprattutto in un mondo in cui grazie social tendiamo sempre a giudicare comunque anche semplicemente a pensare la nostra io non lo condivido perché vedi io credo che per quanto riguarda il covid per esempio no io non mi sono mai pronunciato più di tanto perché non sono un medico stessa cosa nel momento nel quale si parla di politica io non vado a parlare perché non sono un politico nel momento nel quale io non so un qualcosa io non parlo giustamente perché non sono abbastanza informato io non so e perciò non parlo detto questo riuscire a scendere le cose rende tutto molto più vero perché la vita privata poi quando si racconta va magari in bocca a tutti e diventa banale mentre la vita privata è fondamentale tenerla secondo me veritiera pura e questo può accadere solamente quando una grande responsabilità e sicuramente quando hai una grande visione delle cose così tanto da poterla consolidare te da solo parlando questa cosa ancora non ce l'ho perché sono giovane devo consolidare la mia musica consolidata la mia musica consoliderò la mia persona perché tiberio fasma hanno tantissime cose da dire oltre la musica che questo sia ben chiaro e per il futuro parlerà però detto questo magari in futuro sarò pronto anche di poter poter raccontare la mia vita privata sapendo che le persone abbiano abbastanza informazioni per poterla giudicare nel modo giusto molto bene sempre di bene io non posso ringraziarti come sempre per la per la chiacchierata speriamo di rivederci presto di persona buona musica e ciao buona giornata sempre gentilissimi